Decisione che significa? Non ritorniamo indietro e ancora parliamo di ospedali. L'ospedale di Praia va qualificato in un certo modo e credo che ci stiamo riuscendo. E allora Praia ha avuto, in questa organizzazione dell'ASPE, riconosciuti 52 posti letto per le varie branche che devono venire all'interno dell'ospedale. Ma a parte le branche, adesso c'è anche il materiale umano che noi abbiamo ottenuto all'interno della struttura ex ospedaliera. E il materiale umano che significa? Che finalmente nel nostro pronto soccorso, che è H24 su 24, ci sono gli anestesisti, ci sono i medici, ci sono i chirurgici. Allora significa che è una garanzia alla malata, è una garanzia a chi può soffrire in quel momento di un qualcosa che può essere irreversibile, però incomincia ad avere un'assistenza. E allora ci sentiamo un po' almeno tutelati sotto questo punto di vista. E a questo si aggiungono tutti i servizi che a nostro avviso sono importantissimi. Noi riteniamo che con il sindaco di Tortora, riteniamo entrambi, di continuare la nostra battaglia ma farla non con le crociate, che non servono più le crociate, farla seriamente e far capire perché noi reagiamo, ma reagiamo con chi decide, senza allarmismi. E questa teoria ci ha portato a un risultato. Questo risultato è composto da due step. Il primo step va in vigore per il 2015. E lo step del 2015 è il pronto soccorso con hobby. Cinque posti letto di ricovero breve, dieci posti di lungo degenza, quattro anestesisti, quattro chirurgici, quattro medici. E sono al supporto del pronto intervento, del pronto soccorso. E poi c'è la piccola chirurgia. Il secondo step si deve completare entro il 2016. E' attivazione completa dei posti letto programmate, che sono 52 posti letto. A parte i posti letto, che sono dell'emodialisi. Dobbiamo anche tenere presente che sull'ex ospedale di Praia, per una ristrutturazione, per tutto quello che necessita per raggiungere questi obiettivi, che ci sono già a disposizione, 6 milioni e 800 mila euro. Bene, noi questi dobbiamo farli spendere e realizzare quello che ci vuole una RSA medicalizzata. Ecco, questo è il nostro obiettivo. E' un primo passo molto grande per noi, però lo vogliamo ancora riempire di contenuti.